Cari telespettatori bentornati in diretta per primo cittadino quest'ultima puntata della stagione la andremo a dedicare al comune di Cartoceto e al suo sindaco Enrico Rossi bentornato nei nostri studi sindaco grazie e grazie soprattutto di avermi aspettato qua vi ricordo come sempre che potrete intervenire in diretta telefonando i numeri di telefono che vedete ora in sovraimpressione 0721 86 14 33 per parlare direttamente con il sindaco ma potete inviarci un messaggio meglio se su whatsapp al 338 49 68 250 sindaco in apertura direi di fare il punto un attimo su alcuni progetti e alcuni lavori molto apprezzati dalla città devo dire che sono quelli dell'officina del capoluogo e di Lucrezia partiamo dalla prima a breve si terrà un altro incontro perché già avete ospitato alcune iniziative che riguarda la presentazione del nuovo medico di base anche qui un problema e poi la questione della farmacia quindi insomma siete partiti ufficialmente si hai detto bene simona l'abbiamo già utilizzata in un paio di circostanze a dire il vero insomma manca ancora l'allestimento generale però abbiamo voluto già nei mesi scorsi anticipare questo utilizzo lo faremo probabilmente anche il prossimo 2 aprile ricapiteremo relativamente a questo incontro un invito direttamente a casa dei cittadini del capoluogo e delle immediate zone periferiche appunto come stavi dicendo per presentare il nuovo medico di base un servizio molto molto importante soprattutto se questo integrato con il servizio farmaceutico di cui a lungo si è dibattuto e si continua ovviamente anche a dibattere per la forte sensibilità giustamente da parte dei cittadini del capoluogo e questo incontro del prossimo 2 aprile insomma sarà anche utile per fare il punto su questo servizio in generale però quell'officina non sarà soltanto spazio di socialità, di ricreazione, di aggregazione come lo è stato tra l'altro di recente in una iniziativa dedicata ai giovani ma sarà speriamo anche spazio dedicato alla formazione in modo particolare anche ad un progetto che vorremmo portare avanti assieme all'Università Politecnica delle Marche quindi una pluralità di funzioni che siamo sicuri insomma saranno apprezzati dai cittadini del capoluogo Quella di Lucrezia invece è completata? Quella di Lucrezia è pressoché completata qui invece abbiamo quasi tutto l'arredamento, la vediamo in questo momento abbiamo anche l'arredamento già interno questa invece è quella di Cartoceto quella di Lucrezia è quella che vedevamo prima eccola qua in questi ultimi mesi abbiamo accelerato per cercare di completare anche l'esterno di questa struttura e sarà invece uno spazio dedicato anche in questo caso sì alla ricreazione e alla socialità in modo particolare dai ragazzi ma soprattutto diciamo così della conoscenza e della formazione perché oltre ad alcuni spazi dedicati in modo particolare come quello che stiamo vedendo adesso questa grandissima biblioteca che a Lucrezia nella frazione manca ma ci saranno anche tanti altri spazi dedicati invece alla formazione in modo particolare in questo matching tra la domanda e offerta di lavoro che è sicuramente un argomento molto molto attuale e che merita da parte delle istituzioni a mio avviso una grande attenzione per non dimenticare anche poi gli spazi che saranno dedicati alla scuola primaria Mascarucci che è sostanzialmente lì di rimpetto così come tutta quella che è la creatività laboratoriale riservata ai più piccoli Rimaniamo a Lucrezia per il nuovo centro 5 lei ci ha fornito alcuni rendering, guardiamoli insieme Eccoli qua Sì, di solito quando i politici fanno vedere i render sono sempre il preludio di promesse che non verranno mantenute in realtà non siamo in questa situazione perché stiamo appunto accingendoci all'approvazione del progetto esecutivo e entro la primavera prossima saranno aggiudicati i lavori di questo importante centro civico che sorgerà su Via della Repubblica e il quale per due terzi sarà dedicato al nuovo centro sociale Anziani mentre per un terzo sarà dedicato alla nuova sede della Polizia Locale questa struttura finanziata interamente con l'avanzo d'amministrazione quindi senza indebitare il lente ulteriormente anche se devo dire insomma avremo una capacità abbastanza elevata ci consentirà anche in maniera virtuosa di recuperare qualche decina di migliaia di euro che oggi stiamo impiegando negli affitti per queste due strutture e che potremmo quindi a quel punto riservare a progetti, servizi, iniziative ulteriori a beneficio del cittadino nel corso dei prossimi esercizi finanziari Visto che la dà per certa la costruzione di quest'opera quando la potranno vedere realizzata i cittadini secondo lei? Su questo voglio essere più cauto perché siamo sicuri della possibilità di bandirlo in fretta e di aggiudicare la gara entro la prossima primavera primavera speriamo poi che non succeda come talvolta ahimè succede che i lavori si protraggono per troppo, per lungo tempo e quindi che si possa dare ai cittadini di Cartoceto in modo particolare in questo caso a quelli residenti della forza di Lucrezia quanto prima questo attesissimo risultato anche perché il centro sociale anziani attuale è attivo dal 94 quindi sostanzialmente sono 30 anni che si attende questo risultato questa amministrazione ci riuscirà e sono convinto insomma che come per noi era uno degli obiettivi programmatici prioritari sono sicuro che insomma anche i cittadini lo sapranno particolarmente apprezzare Andiamo avanti, ancora lavori pubblici ne abbiamo parlato qualche giorno fa anche nel nostro telegiornale mi sto riferendo al cimitero dove proseguono invece i lavori di ampliamento e di potenziamento abbiamo altre due foto a Corredo, eccole qua quali lavori in uno specifico sindaco? Beh diciamo sono diversi mesi ormai che abbiamo iniziato tutta una serie di attività di miglioramento e di riqualificazione del cimitero a partire dallo scorso mese di settembre-ottobre relativamente agli spazi e ai percorsi esterni per poi arrivare anche agli ultimi qua vediamo il padiglione interessato di recente dai lavori di ripristina dell'intonico e dalla ritinteggiatura ci sono tutta un'altra serie di interventi che invece si riferiscono alla realizzazione ex novo della rete ombreggiante per schermare alcuni padiglioni e non da ultimo la cosa più importante, più attesa è invece la prossima realizzazione intanto di 40 loculi a cui poi ne seguiranno altrettanti se il meteo sarà cremente perché devo dire che i lavori sarebbero dovuti partire ormai già da qualche settimana ma ogni qual volta siamo costretti a rimandarli per impraticabilità poi di quello che è il terreno all'esterno rispetto al transito dei mezzi quindi sicuramente insomma una serie di importanti cantieri interventi che riqualificheranno e potenzieranno come appena detto Simona il cimitero della Pieve di Cartoceto Anche un paravento vero a proposito di meteo? Sì, anche su questo è un paravento che interessa un po' un padiglione esposto ad est su cui molto spesso gli agenti atmosferici purtroppo fanno cadere a terra gli elementi ornamentali ovviamente tra i quali sono compresi anche i fiori posizionati sulle tombe di famiglia insomma dicevo una serie di interventi sicuramente attesi anche in questo caso va sottolineato credo una cosa importante cioè che dal 2026 l'ente rientrerà gradualmente nella disponibilità di sepolture concesse con diritti quarantennali e cinquantennali e quindi questo significherà rispetto invece al trend e all'andamento che c'è stato negli ultimi anni poter arrestare un po' anche questi continui interventi di ampliamento e quindi di potenziamento dei loculi abbiamo argomento parliamo invece del fosso del rio secco lì sono previsti interventi di pulizia o di messa in sicurezza? lì dovremo con un finanziamento di 70 mila euro a valere sulle risorse del PNRR avviare l'intervento entro il prossimo 15 di settembre quindi è chiaro che con 70 mila euro non riusciremo a fare tutto il tratto che vorremmo fare ci concentreremo in modo particolare su quel tratto della frazione di Ponte Murello che è quello un po' più attenzionato e soprattutto che necessita prioritariamente dell'intervento le vado a leggere un messaggio volevo sapere sindaco quando verrà asfaltato il parcheggio delle case popolari in via Flaminia al 282 il parcheggio scrivono i pieno di buche e si alza un sacco di polvere inoltre quando il semaforo è rosso passano tutti qui si può fare qualcosa? ci sono bambini che giocano e quindi è pericoloso precisano pure che pare dicano il suolo è comunale sì il suolo è comunale però è altrettanto vero che su questo a proposito della domanda si può fare qualcosa va riattivata assolutamente l'interlocuzione con ERAP perché quei lavori di asfaltatura di quel piazzale dovevano essere ricompresi all'interno del progetto e del successivo intervento di riqualificazione di tutto lo stabile quell'intervento a proposito di allungamenti che talvolta i cantieri subiscono ha sicuramente dovuto affrontare tutta una serie di difficoltà burocratiche e non solo tant'è che il comune di recente ha affidato un incarico tecnico per la riassegnazione poi anche se questo effettivamente è in capo ad ERAP di tutti i singoli garage in capo ai residenti è chiaro che occorrerà anche riprendere l'interlocuzione con ERAP per poter asfaltare anche tutto il parcheggio questo lo dico anche rispetto a una contestualizzazione più adeguata di quel parcheggio su via Casello perché quel tratto di via Casello è stato oggetto di riqualificazione negli ultimi anni con la realizzazione di camminamenti pedonali di riasfaltatura di tutto il tratto di strada e anche dell'installazione di punti di illuminazione che anche da un punto di vista estetico sono abbastanza pregevoli e quindi è vero quando i cittadini dicono che al di là della presenza di buche sicuramente anche da un punto di vista estetico non è adeguato rispetto a quello che è il contesto quindi quella è sicuramente una di quelle cose che andrebbero quanto prima riprese in questo confronto assieme ad ERAP A proposito di asfalti ci sono lavori in corso programmati nel territorio di Cartoceto? Intanto stamattina finalmente dopo davvero mesi e mesi e mesi che stavamo sollecitando Enel al ripristino del manto d'asfalto per un tratto di due chilometri circa di via Pieve sono partiti definitivamente i lavori lavori analoghi tra l'altro interesseranno anche altri tratti di strade in modo particolare nella frazione di Lucrezia tra via Fiume, via Oberdan, via San Giovanni, via San Marco sicuramente adesso ne dimentico alcuni a brevissimo inoltre partiranno degli importanti lavori di riqualificazione del tratto di via della Repubblica che va tra via Amerigo Vespucci e via Aldo Moro e questi lavori non interesseranno soltanto non si sostanzieranno soltanto nella riasfaltatura di questo tratto compreso il parcheggio di fronte alla delegazione comunale ma vedrà anche la riqualificazione diciamo del tratto di facciata di piazza Giovanni Paolo II spostando anche quello che ad oggi a nostro avviso è un camminamento pedonale molto molto pericoloso perché sostanzialmente sta sul posteriore delle auto in sosta e quindi molto spesso potrebbe anche aprire a accadimenti poco piacevoli nei confronti dei pedoni che magari si trovano a dover transitare in quel momento sul posteriore appunto delle auto in sosta Mi dicono che abbiamo una telefonata per lei sentiamo chi c'è in linea Buonasera Sì buonasera Il sindaco è qua che l'ascolta, prego Sì, grazie Sì, buonasera Enrico, signor sindaco Sì? Sono Eurosalboni, ciao Mi dispiace che devo utilizzare questo modo per poterti chiedere una cosa Noi siamo fortunatamente in una posizione di classifica interessante per il campionato che stiamo facendo Io sono Eurosalboni, per esempio della Real Metauro Mi conosci bene, nuova Real Metauro Nuova Real Metauro Ti volevo chiedere una cosa Ci potranno essere delle possibilità nel caso in cui, come speriamo Di poter effettuare le partite a Lucrezia Per il discorso dei play-off Noi siamo in una posizione di classifica Ancora possiamo concorrere alla vittoria del campionato Anche in quel caso avremo necessità di utilizzare il campo Visto che tu sai benissimo come utilizziamo noi il campo di Lucrezia Sai benissimo quelli che sono gli impedimenti per noi a Calcinelli Che è un campo non utilizzabile perché l'amministrazione comunale l'ha chiuso Noi a suo tempo abbiamo fatto delle richieste E queste richieste non sono state mai accolte A me quello che sinceramente più dispiace È che siamo costretti ad andare a giocare a San Lorenzo in campo Quando a Lucrezia il campo più di una volta E anche sabato prossimo che andiamo a San Lorenzo in campo A Lucrezia non gioca nessuno Io credo che questa cosa deve essere di volta a te Perché sei tu il gestore del campo Perché gli altri sono soltanto quelli che lo utilizzano Non hanno la convenzione come noi abbiamo la convenzione Per il comune di Coria e Metauro Io ti volevo chiedere questo A chi mi devo rivolgere nel caso in cui abbiamo bisogno di fare delle partite Per i pre-off O eventualmente in un'altra posizione Che magari per noi sarebbe anche quella migliore Grazie per il suo intervento Sindaco Guarda Simona ma soprattutto Euro Questo è un argomento che meriterebbe Non una risposta di 30 secondi Ma meriterebbe una risposta di un'intera trasmissione Perché purtroppo quelli che sono i rapporti Al momento un pochino difficoltosi Tra le due società che afferiscono all'utilizzo Di quegli impianti sportivi Vale a dire la nuova Real Metauro Real Metauro 2018 Partono almeno da quando io facevo ancora l'assessore allo sport Vale a dire 15 anni fa Quindi bisognerebbe ricostruire esattamente Anche tutti quelli che sono gli elementi E che sono state le dinamiche Che hanno portato oggi purtroppo A questi rapporti un pochino farraginosi E difficoltosi Che poi si traducono purtroppo anche in queste difficoltà Appunto nella fruizione degli impianti sportivi Il Presidente sa perfettamente Che io ho cercato di intercedere più e più volte Nel cercare la giusta sintesi E il giusto equilibrio tra le due società sportive Ahimè in vano Perché è evidente che non ci sia riuscito Credo che ancora qualche spazio E qualche margine a mio avviso Di trattativa e di confronto Tra le due società ci sia Ma soprattutto ci debba essere E io mi auguro davvero Che da parte dei soggetti protagonisti Che appunto rappresentano le due società Ci sia piuttosto che talvolta Uno scatto d'orgoglio Uno scatto e un senso di responsabilità Maggiore nel voler appunto trovare Un equilibrio e una giusta sintesi Una sola precisazione È vero che la nuova Real Metauro Ha dovuto più volte utilizzare Il campo di San Lorenzo In campo Per le partite in casa Ma è doveroso anche puntualizzare Che la convenzione che la nuova Real Metauro Ha in essere con il comune di Colli al Metauro Prevede che quando e qualora Il campo sportivo L'impianto sportivo di Calcinelli Dovesse essere inutilizzabile Potrebbero essere utilizzati Gli impianti sportivi Qualora ovviamente a loro volta liberi Dello stesso comune di Colli al Metauro Vale a dire della frazione di Villanova E della frazione di Tavernelle E quindi anche da questo punto di vista Invito la nuova Real Metauro Così come tra l'altro mi pare Che abbia fatto di recente A voler considerare anche Quel tipo di ipotesi Tanto quanto ovviamente L'ipotesi che resta in campo Cioè l'utilizzo del impianto sportivo Della zona di Via Nazareosauro Lucrezia Sindaco dobbiamo andare in pubblicità Un altro messaggio però Tonina chiede Via Corvina A 500 metri di strada che d'asfaltare Con Tonina ci vediamo domani pomeriggio Alle 18.30 assieme a tutti i residenti Di Via Borgognina, Via Corvina Via San Marco e Via Santo Stefano Per parlare di un argomento Molto molto importante Ovvero i sottoservizi Di quelle quattro vie Argomento anche questo Molto molto dibattuto Ormai da anni Da tanto tempo Da troppo tempo E sono sicuro che domani Avremo modo di confrontarci Prima sui sottoservizi Cioè sull'oggetto Argomento dell'incontro E poi magari parleremo ovviamente A seguire Perché è questione conseguenziale Anche del manto stradale Appunto di Via Corvina Risposta puntuale e precisa Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità Siamo tornati in diretta per Primo Cittadino Ospite Sindaco di Cartocetto Enrico Rossi Vedete come sempre I numeri di telefono Per intervenire in diretta Sindaco ripartiamo Dalla Ciclovia del Metauro Il Consiglio Comunale Ha dato il via libera Ufficiale Alla realizzazione di questa infrastruttura Sì abbiamo ratificato Il protocollo d'intesa Sostanzialmente Lo schema di accordo Che era già stato Precedentemente In via preliminare Approvato Assieme alla Regione Marche Provincia di Pesurbino E comune di Fano Relativamente al primo lotto Secondo stralcio Ovvero quello che va Da Cucurano Appunto a Lucrezia Di Cartocetto La Regione conferma Insomma di avere Risorse Adeguate Per poter Proseguire Con la progettazione Esecutiva Di questo tratto Per poi bandire La gara ad appalto E sicuramente Insomma un investimento Molto molto importante Che riqualifica Non soltanto il tratto Ma aumenta Credo la qualità di vita Per chi abita In quelle zone E dà anche modo Come più volte Si è detto Di aprire nuove opportunità Da un lato Da punto di vista Del turismo Legato al ciclismo E tenuto conto Che la nostra vallata È un po' Un'asse Collegata a Pettine Con i nostri Meravigliosi Capoluoghi E al tempo stesso Siamo sicuri Che l'eventuale Ripristino Di un mezzo Così come più volte L'ho definito Intermodale Di collegamento Della vallata Potrebbe ovviamente Aprire anche Invece da questo punto di vista Nuovi scenari Di mobilità Legata Alle zone artigianali E industriali Di Bellocchi Di Lucrezia Di Calcinelli Eccetera E quindi insomma Un investimento sicuramente Molto molto importante Sotto più punti di vista Risvolti sociali Economici Insomma Diversi benefici Abbiamo tre domande per lei Partiamo dalla prima Cerchiamo di fare un veloce Botto e risposte Perché ho ancora tante domande Da farle anche io Come mai nei giardini Di tutta Lucrezia Ci sono cartelli Con i divieti di entrata Per i cani Non è una cosa Contro la legge? Facciamo così Abbiamo la risposta Con una proposta Cioè Con la prossima inaugurazione A settimane Dell'area sgambamento Cani Di 4000 metri Circa Di via 11 settembre Un obiettivo programmatico Di questa amministrazione comunale Che appunto È quasi praticamente pronto Mancano semplicemente I punti di adduzione Dell'acqua All'interno È un'area sgambamento Che avrà una sua partizione Interna D'accesso libero E gratuito E tante altre Invece Che saranno gestite E che saranno Daranno la possibilità Insomma Di essere frequentate Anche sulla base Poi di quella Che è la razza La taglia Il comportamento del cane Insomma Sicuramente Una bella bella area Dedicata ai nostri amici Che piacerà tanto Per le baby gang Non si può fare niente Sindaco D'estate È un incubo Tra schiamazzi E vandalismo Si può fare Stiamo cercando Ovviamente Con gli strumenti Le possibilità Di fare quello Che è possibile Anche con il potenziamento Della polizia locale Devo dire Che è stato un investimento Molto importante Su cui abbiamo lavorato Nell'ultimo anno e mezzo In termini di potenziamento Di mezzi Di personale Il comune Non aveva mai avuto Cinque agenti Di attrezzature Di strumentazioni Telecamere Letture Lettori targhe Telelaser Etilometro Fototrappone Insomma tutta una serie Di attrezzature Su cui abbiamo fortemente investito Nell'ultimo anno e mezzo Ho chiesto dal 2024 Perché un po' Queste dotazioni Poi effettivamente Sono entrate a regime Dal primo gennaio scorso Di potenziare Tutta una serie di attività Di controllo Di monitoraggio Ma soprattutto Di presidio A proposito di baby gang E quando parlo di presidio Ovviamente mi riferisco A zone particolarmente sensibili Quali i parchi Le zone sportive Le zone scolastiche Ovviamente questo vale In modo particolare Per la frazione di Lucrezia Aggiungo sempre una cosa A cui tengo particolarmente Che le istituzioni In questo caso L'ente locale Assieme alle forze Di polizia locale Anche in modo integrato Ovviamente con le forze Dell'ordine Devono assolutamente Fare il loro compito Nella maniera più puntuale E costante possibile Aggiungo però Che questo lavoro Questa funzione È assolutamente indispensabile Che sia integrata Con quella che è La funzione delle altre istituzioni In modo particolare Quelle di carattere educativo E di carattere formativo In via Madre Teresa di Calcutta Ci sono pochissimi cestini Dell'immundizia nei parchi È possibile aggiungerne qualcuno? Sì I parchi sicuramente Saranno nei prossimi mesi Alcuni di questi Così come del resto Insomma Sono stati anche Negli anni passati Oggetto di qualche potenziamento Di qualche miglioria Non soltanto relativa ai cestini Ma relativa ai giochi Magari di qualche zona Che necessita anche Delle cosiddette Piastrelle antitrauma Sotto i giochi Perché molto spesso A seguito Delle eventi precipitazionali Poi di fatto I giochi Non possono essere utilizzati Per la presenza di fango E quindi insomma Anche da questo punto di vista Cercheremo di fare Qualche cosa Nei prossimi mesi Tra l'altro A proposito di parchi Anche qui Inaugureremo A brevissimo La area Dedicata al fitness A corpo libero Realizzata Grazie Non soltanto A un cofinanziamento comunale Ma grazie anche A il finanziamento Di sport e salute La società della presidenza Del consiglio dei ministri E sicuramente Insomma Una bella area Dove i ragazzi Ma non solo In generale Tutti i cittadini Potranno andare là Inquadrare il QR code Vedere un po' Quelli che sono Gli esercizi Da poter fare Con quell'attrezzo Presente E siccome lo stanno chiedendo In tanti Sono sicuro Insomma sarà un'altra area Particolarmente utilizzata Questo nel parco Martelli di Bologna Questa domanda Non so se insomma Può avere da parte Su una risposta Sebbene insomma Che se ne occupino Gli uffici competenti Vorrei informazioni Per quanto riguarda I pagamenti Delle luci votive Nel cimitero di Cartoceto Sono tre anni Che non arrivano i pagamenti Mi pare che abbiamo Siamo leggermente indietro Non me lo ricordo Onestamente A quale anno Siamo arrivati Ma credo che nel 2024 Partirà il ruolo Di un paio di anni Quindi dovremmo Recuperare Adesso facciamo Sindaco una carrellata Di immagini Con un suo commento Partiamo ecco Dalla palestra Della scuola La nuova pavimentazione Della palestra Della scuola secondaria Di primo grado Anche questo Insomma un obiettivo Programmatico Che sta nel nostro programma Stava nel nostro programma Elettorale Raggiunto E devo dire insomma La vecchia pavimentazione È uno stato indecoroso E siamo riusciti Finalmente A risolvere questo problema Andiamo avanti Quella successiva Vecchi spogliatoi Dello stadio Amati In passato Abbiamo già Li abbiamo già Riqualificati internamente Fuori sono Nella stessa condizione Di quando io da bambino Giocavo a calcio Quindi sono passati Praticamente 40 anni E finalmente Siamo riusciti Ad intercettare 128 mila euro Che serviranno A riqualificare Esternamente Tutti gli spogliatoi Realizzeremo Sopra quella copertura L'impianto fotovoltaico Colonnine di ricarica elettriche Sono sicuramente Un bel intervento Per riqualificare Ulteriormente Quella zona polisportiva Al bocciodrome invece? Sul bocciodrome Invece c'è un progetto Altrettanto importante Di 104 mila euro Perché dopo La realizzazione Della copertura Da nuovo Che stiamo vedendo Questo nuovo progetto Invece vede La possibilità Di realizzarvi Un impianto fotovoltaico Ma soprattutto Di costituire La prima Nel nostro territorio La prima comunità energetica Che sarà Al servizio anche Di altre utenze Tra cui Appunto Quelle di altre associazioni sportive Andiamo avanti Con la prossima Altrettanto Questo insomma Un intervento Che credo Degno di nota Perché si tratta Della realizzazione Che abbiamo fatto A quattro mani Cioè un po' il comune Un po' le associazioni stesse Cioè con il gruppo podistico E con la federcaccia Di Lucrezia Sono le due nuove sedi Di queste due associazioni Che insistono Nella zona polisportiva Di via Nazario Sauro E abbiamo voluto Fortemente insistere Affinché trovassero Spazio In quell'area Proprio perché Fossero ulteriormente Frequentate E frequentabili Dai bambini Così come Gli impianti Relativi ad altre Discipline sportive Insomma tanti interventi Passiamo invece Alla cultura Per Pesaro 2024 Quale sarà La settimana dedicata A Cartoceto Beh anche noi Insomma cercheremo Di ricavarci Il nostro spazio Che farà parlare Del nostro territorio Nel nostro caso Dopo la tornata Elettorale di giugno Quindi insomma Avremo modo Di parlarne Anche perché Il capoluogo Di Cartoceto Ha quest'anno Credo Un importante Progetto Da valorizzare Che è quello Relativo al Teatro del Trionfo Ricordiamo Insomma oggetto Di un finanziamento Di 2 milioni di euro Da parte del Ministero della Cultura Per la realizzazione Del primo polo Performativo Multisensoriale Che non è uno scioglilingua Ma sarà uno spazio Appunto dove Dico sempre Quelle che sono Le tradizioni Delle arti Che conosciamo A teatro Saranno perfettamente Integrate Con tutto ciò Che oggi La tecnologia Mette a disposizione Mi riferisco A realtà virtuale Integrata Intelligenza artificiale Ologrammi Ne vedremo sicuramente Davvero davvero Delle belle All'interno Di questo teatro Meraviglioso Ed edificio storico Che nel 1700 Tra l'altro Era Lo ricordo sempre Un magazzino Per le olive E state lavorando Immagino anche A questo programma Che poi andrete a proporre Beh sì certo Appunto nei prossimi mesi In modo particolare Lo sveleremo Insomma lasciamo Le novità Allora Parlato prima Della prossima tornata Amministrativa Quanti abitanti Conta Cartoceto 8.000 circa 8.100 circa Lei ha fatto I suoi due mandati Quasi al termine Quindi ha la possibilità Di ricandidarsi Per un terzo Io ho la possibilità Di ricandidarmi Per un terzo Ma la cosa A cui Tengo di più Credo Simone lo abbia detto Anche Nella precedente Circostanza In cui sono stato Ospite Nei vostri studi Di primo cittadino E che questa Amministrazione Abbia assolutamente La possibilità Al di là Della mia persona Di completare Di chiudere Questi progetti Di cui abbiamo avuto Modo di parlare Questa sera Che Sono solito Sempre definire Dei segni Intangibili Che resteranno Tangibili Scusami Che resteranno Per i prossimi 50 anni Nel nostro Territorio E quindi Credo che Vadano assolutamente Chiusi Completati Perché poi Possa partire Una nuova fase Quella appunto Dell'utilizzo Quindi sicuramente Questa amministrazione Proseguirà Vorrà proseguire Il proprio lavoro Appunto nel completamento Di questi Progetti Guardando ovviamente Anche ai prossimi Obiettivi E perciò Che riguarda La mia persona Ovviamente Nelle prossime Settimane Svegleremo Definitivamente Insomma Quello che Questa amministrazione Farà in vista Della prossima Tornata elettorale Dell'8-9 giugno Sindaco Grazie per essere Stato con noi Grazie a lei Noi ci rivediamo Alle 20.30 Per il telegiornale Ringrazio Per tutta questa stagione Cristiana Guerra Riccardo Sora In regia Ci vediamo dopo